Benvenuti questo mouse, sono Lorenzo e oggi proveremo a fare un gioco Clash of Clients Minecraft, di nuovo un gioco così proprietario, poi sui commenti mi potete anche dire mi potete dire cosa fare, mi dite cosa si può fare, va bene. Grazie a tutti. 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 A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.